Giornata mondiale antifumo 24 ore per riflettere e attenzionare le notevoli problematiche legate al fumo della sigaretta. Il vizio delle bionde, secondo i dati dell'OMS, uccide 6 milioni di persone l'anno, di cui ben 85 mila in Italia. Datti allarmanti, grandi cifre che parlano di decessi che accompagnano la sigaretta, sempre più nemico e killer della salute. Una giornata antifumo, questa celebrata su iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una lotta alle bionde che compie 50 anni, che partendo dagli Stati Uniti ha coinvolto l'intero globo. Tumori e malattie cardiovascolari, respiratori e le patologie che normalmente vanno a braccetto con il pericoloso vizio. Dagli anni 80 molti gli stati che più consapevoli hanno avviato una legislazione di controllo nell'uso del tabacco. Nel 2005 una convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta contro il fumo. Nello stesso anno il divieto vigente in molti paesi di fumare nei locali chiusi pubblici e privati, compresi gli uffici. Ogni anno una città delle dimensioni di Francoforte o Palermo viene cancellata, così il commissario dell'Unione Europea per la Salute, Tonio Borg. Queste le nozioni che rendono evidenti le proporzioni del problema fumo, numeri che parlano di un big killer. Tanto quindi è stato fatto ma ancora troppo c'è da fare da registrare il boom del fumo digitale. La sigaretta elettronica negli ultimi tempi sta riscuotendo di fatti grande successo soprattutto tra i più giovani. Ha aumentato il numero degli svappatori tra i 15 e i 24 anni, 9 in meno rispetto alla media degli amanti delle bionde. Insomma una guerra ancora da vincere, quella con il mortale vizio del fumo di tabacco.